Giulio Cesare e Francesco Bedeschini, disegno e invenzione all'Aquila nel Seicento. Dal 1 dicembre al 3 marzo al Munda, la mostra a cura di Michele Maccherini, Luca Pezzuto, Simonetta Prosperi Valenti e Federica Zalabra. L'esposizione è stata organizzata dal Museo Nazionale d'Abruzzo in collaborazione con l'Università e la Fondazione Carispac. La mostra è dedicata ai due, padre e figlio, pittori aquilani del XVII secolo e uno sguardo in bianco e nero del Seicento Centro Italiano. Parte da una piccola esposizione di Giulio Cesare a Colonia per espandersi poi con il confronto tra i disegni dell'artista e le opere pittoriche. Allargando lo sguardo attraverso il figlio Francesco a tutto il XVII secolo è importante perché è il primo evento monografico dedicato in Italia a due artisti, 70 le opere. Ci sono stati anche dei prestiti di chiaratura internazionale. Per questa occasione il Museo Nazionale ha restaurato quattro grandi opere custodite nei depositi. È una mostra importante dal punto di vista scientifico ed è una mostra importante perché vede il Munda collaborare con l'Università, la Fondazione Cassa di Risparmio. Questa è la strada che abbiamo intrapreso e quella che vorremmo continuare a perseguire, fare sì che il museo diventi la casa della cultura per tutta la città. Per quanto riguarda proprio l'aspetto scientifico, il progetto scientifico che vede diversi curatori dell'Università anche insieme a me, è un progetto importantissimo perché in Italia presenta per la prima volta un studio monografico su Giulio Cesare Bedeschini e su Francesco Bedeschini. E per gli Aquilani sarà anche l'occasione per riuscire a capire la genesi attraverso il disegno delle invenzioni dell'uno e dell'altro che vedono ancora nelle chiese. Il catalogo della mostra è stato realizzato grazie alla Fondazione Carispac che nel 2022 acquisì un raro disegno di Bedeschini, la stessa fondazione che ha finanziato il restauro di opere della Biblioteca Tommasi esposta in mostra. Ci saranno anche altre attività in programma come l'acquisizione di opere grafiche degli artisti da parte di Museo e Fondazione, ma anche una campagna di restauro e iniziative nelle scuole per chiudere con a febbraio prossimo un convegno importante all'Aquila.